Questa fotografia qua, che a primo colpo d'occhio sembra un museo, in realtà è una casa privata di un tipo ad Arezzo. Io finisco là, in questa sala, perché mi invitano a una festa un amico di un amico. Quindi si arriva a casa qua e entrando a questa festa noto questo bestia nel soggiorno. E poi arriva il momento di parlare con il proprietario di casa, me lo presento e mi dico Luca, scusa, fammi capire, ma che ci fai con un dinosauro di plastica nel soggiorno, ma poi quella tutta d'astronauta, che roba è? E mi fa, ma che di plastica? Guarda che è vero quel dinosauro. Dico, ma scusa, aspetta, fammi capire. Te c'hai un dinosauro vero in casa tua ad Arezzo? Com'è possibile? Ma sai, io faccio il dealer, li compro, li vendo. Che senso, li compri e vendi? Insomma, scopro tramite questo tipo che incontro per caso, che esiste un mercato molto di nicchia, di dinosauri, fra privati. E quindi te li puoi comprare e vendere come vuoi. Allora, di nuovo, siccome National Geographic un mese sì, un mese no parla di dinosauri, che a quanto pare sono un argomento che i lettori mangiano a bizzeffe, quindi li chiamo e dico, ragazzi, io ho trovato una storia figa sui dinosauri, cioè sono in contatto con un dealer che li compra, li vende e ha in mano il mercato dei dinosauri. Se volete, si fa questa cosa, mi danno l'ok. E quindi per un anno ho seguito questa storia sul mercato dei dinosauri. Sono partito da Arezzo, dove ho trovato il primo dealer, e da lì si è sviluppata. Intanto ho scoperto, grazie a lui, che tutti i dinosauri in mano privata che sono nel mondo, cioè che ci sono al mondo, partono dagli Stati Uniti. Perché gli Stati Uniti è l'unico paese al mondo che ha questa strana regola o legge che qualsiasi cosa tu trovi nella tua proprietà è tuo e ne fai ciò che vuoi. Quindi se trovi il petrolio è il tuo, se trovi un astronave caduta da Marte è la tua, diamante, qualsiasi cosa è tua. Quindi se trovi un dinosauro sul tuo terreno, lo vendi a chi offre di più, indipendentemente da quale sia il suo valore scientifico. È il tuo e ne fai ciò che vuoi. E quindi ovviamente la mia storia doveva partire dagli Stati Uniti. Sono andato lì e sono andato a incontrare i cercatori di dinosauri. Qui siamo in Montana, il Montana è uno dei paesi più ricchi, cioè uno degli stati più ricchi, ma semplicemente perché ci sono queste formazioni rocciose molto frequenti, molto comuni, dove si vede abbastanza netta questa linea nera, non so se la vedete nella foto lì, ma c'è una linea nera che corre intorno a questa formazione rocciosa. Quella linea si è formata 60 milioni di anni fa circa, quando il meteorito ha preso la terra, quindi ha fatto l'esplosione, fuoco, fiamme e fumi. Si sono depositate le sceneri e tutto quello che c'è da sotto è stato ucciso. Quindi, essendo così visibili queste formazioni là in Montana, è molto facile anche trovarli, perché basta cercare sotto quella linea nera. Se cerchi sopra qualsiasi cosa tu trovi non è certamente preistorico, sotto sì. Quindi io sono stato lì un po' di giorni con questi cowboy che vanno in giro con i cavalli a frugare sotto la linea nera e abbiamo trovato delle ossa di dinosauri, dei cusci di tartaruga, eccetera, eccetera. Fino a che abbiamo trovato un triceratopo, che ora qui si vede poco, però se lo immaginate è rovesciato, potete vedere le tre corna, la mascella, la mandibola. Quindi finché si trovano piccole ossa o frammentini li lasciano lì, è come un po' andare a cercare i funghi, cioè frughi frughi, se trovi robaccia la butti là, quando trovi il porcino quello bello, grosso, te lo porti a casa e più o meno loro fanno uguale, cercano, cercano, quando trovano qualcosa di interessante cambia lo scenario, quindi viene preso un pezzo di roccia intero, come in questo caso, e viene portato in zone protette, dove poi inizia il restauro, che si sviluppa o negli Stati Uniti o, come in questo caso, in Italia, perché io ho seguito un animale, questo qua, che è un allosauro, che è stato trovato in Wyoming, arrivato poi a Trieste, quindi questo fatto qua l'ho fatto a Trieste, dove c'è un laboratorio che restaura dinosauri, quindi viene smontato, ripulito e ricostruito le parti mancanti, poi viene trasportato, fino ad arrivare alle aste, questo è a Drou, a Parigi, che l'allosauro, che avete prima visto smontato e poi trasportato, insomma a un certo punto è intero e finisce sopra un pacchetto dove inizia l'asta. La base d'asta di questo fossile era 400.000 euro e è andato poi in mano a un cinese per 2.800.000, quindi il dealer ci ha fatto un bel guadagno su questo dinosauro e da qui in poi io allora ho deciso di seguire e di cercare chi sono i collezionisti che si mettono in casa un dinosauro e sono andato a casa loro. Di nuovo la mia, diciamo, la spinta che mi muove a fare il mio lavoro è veramente entrare in casa della gente, io mi diverto un sacco a frugare nei cassetti della gente. In questo caso non era proprio frugare nei cassetti perché i dinosauri li mettono da tutt'altra parte, quindi all'ingresso di casa per esempio. Questa qua l'ho fatta in Francia, mi scena a Bordeaux e lei si è comprata un allosauro all'asta di Lione per 2.100.000 e ora è all'ingresso di casa sua e ogni tanto lei sta lì con il suo dinosauro e pulisce il vetro di ingresso. Lui, sempre in Francia, è il proprietario della catena di negozi Auchan e ha un castello fuori Parigi che è una camera delle meraviglie, un cabinet of curiosities e ha tutto, cioè ha statue cinesi, animali imbalsamati, c'è veramente un castello pieno di qualsiasi cosa e aveva deciso di iniziare la collezione di dinosauri e quindi il primo che si è comprato è questa testa di Mosasauro e io sono andato a fotografarlo con il suo giocattolo. Lui è Luca, il dealer che aveva il diprodoco che avete visto nella prima foto che nel frattempo, mentre io lavoravo questa storia, si è comprato un opterodattilo che penzola nel soffitto del suo studio e quindi sono tornato a fotografare anche lui. Questo in Nord Dakota, lui se l'ha trovato in giardino e ha deciso di tenerlo, cioè una parte inferiore della mandibola di non mi ricordo quale bestia ma comunque è un fossile di dinosauro anche questo, lui l'ha trovato in giardino fuori casa sua non l'ha venduto, se l'ha tenuto in casa. Questa qua è invece fatta a Pavia, quindi non è che bisogna andare troppo lontani da casa per trovare cose curiose e lui è un produttore cinematografico e ha in casa sua la testa più grande mai trovata al mondo di Mosasauro quindi il pezzo più grosso di questo animale esistente nella terra ce l'ha lui in casa quindi mentre il suo figlio gioca con dei dinosauri di plastica, dietro ne ha uno vero. Di nuovo in Francia. Qui invece a Londra, questo qua che lo vedete piccolino sopra la mensola è poco più grande di un pollo e questo qui si chiama ottenielosauro quindi ho imparato solo da questa ricerca a pronunciare questi animali perché non avevo idea neanche esistesse un ottenielosauro e questo qua è abbastanza curioso perché magari lo vedete piccolino e magari uno può pensare, vabbè questo vale meno, chissà, è una robetta invece questo qua vale più di 4 milioni di euro perché più sono piccoli e più sono difficili da trovare quindi i dinosauretti, quelli piccolini, raramente si trovano perché le ossa sono così piccole che molto probabilmente sono diventate sabbia non sono rimaste intere quando li trovano, grande festa tipo il tricerato poi si trova facile c'ha questo teschio gigantesco, cinciampi sopra l'ottinerosauro no quindi questo è uno che ha un sacco di valore e questa è, credo, l'ultima foto di questa selezione di dinosauri che l'ho fatta in Massachusetts loro hanno questo bestione che penzola dal soffitto e loro ne hanno in casa otto sono tra i collezionisti più pazzeschi che ho trovato grazie a tutti grazie a tutti